Scusa, tu esattamente saresti? È riservato. Blue Panther? No. Pipistrello blu? No. Dark Garfield? No, basta. Macho Libre? Vengo da un'altra dimensione. Non mi dire! Wow, non è una grande novità, sai? Mi chiamo Miguel O'Hara. Guido una squadra speciale che deve garantire la sicurezza del multiverso. Ok, lascia stare. Puoi andare in qualsiasi dimensione con quella specie di orologio. È molto più di un orologio. Ok, suscettibile. Senti, c'è un grosso tacchino di rinascimento da assicurare alla giustizia, quindi se non ti dispiace... Tranquilla, ragazzina. Me ne occupo io. Ok, accomodati. Perché mi dici di... Non sei divertente!